Ecco, davvero, chiediamo oggi al Signore, in questo giorno in cui, ecco, nel primo venerdì ricordiamo l'amore di Dio nel suo cuore. Ecco, oggi è il primo venerdì, quindi ricordiamo proprio con devozione, rinnoviamo la nostra devozione al cuore di Gesù. Vogliamo chiedere proprio a Lui che dal nostro cuore si allontani questo peccato, questo vizio, l'avarizia, che nasce proprio da questa paura di rimanere soli, questa paura di non avere nulla con noi. Ecco, la paura della solitudine crea in noi questo senso ancora di più di chiudere la cerchia e di possedere tutto, no. Il Signore liberi il nostro cuore da questa paura e ci doni il coraggio, la forza, ma soprattutto la gioia di testimoniare il suo amore. Perché, ecco, come dice una pubblicità, mi potrete togliere tutto, ma non mi toglierete mai l'amore di Dio. Lui non mi abbandonerà mai, Lui non mi lascerà mai.